Buonasera. Allora, prima di tutto volevo dire che sono contentissimo di non dover attaccare la nomenclatura, le varie differenze, la scrittura, le cose più importanti. Esatto, grazie a Ossit. Quindi, perché di solito, diciamo, quello mi prende tutto il tempo dell'intervento, cioè spiegare le differenze tra writing, scrittart, arti pubblica, ci tengo molto, però potremo fare l'anni nelle scuole, quindi grazie a Ossit, che ci sta arrivando perché non lo potevo fare. Invece sono qui, appunto, per raccontarvi due esperienze, due progetti, in realtà sì, esatto, più che due progetti, due esperienze che ho vissuto quest'anno, anche molto rinecente, l'ultima, fino alla settimana scorsa in pratica, siamo stati con i ragazzi di Iocop, gli restauratori di Iocop, con il lavoro di Marodi, Gaia, Maggiolo, Andrea Macchia, e anche le saggiste. Siamo stati a lavoro in provincia di Salerno, nella città di Quattivaglia, e abbiamo realizzato un intervento, loro hanno realizzato un intervento di restauro pratico sulla facciata di una parete dipinta da un artista, Umberto Volta, locale, nel 1984, quindi una parete di 35 anni fa, un dipinto murale di 35 anni fa, e nel frattempo noi in realtà abbiamo lavorato da due anni, io in prima persona, loro per cercare di realizzare l'intervento di restauro pratico su quella parete, ma anche di supportare poi l'intervento di Iocop da un lato storico-artistico, quindi abbiamo proprio raccolto molta documentazione dalle fonti di lette, adesso vi spiego anche come, un po' di fotografie, non so, posso fare anche senza, non è un problema. L'altra esperienza, diciamo all'inizio positiva, e poi diventa quella dell'intervento murale di Donor della Prostia, di quest'estate, a luglio. Diciamo che è la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo la vicenda che penso un po' tutti conoscete, era un intervento di Luca Malionte, e volevo mettere però a confronto queste due esperienze, questi due progetti. a confronto perché in realtà sono entrambi progetti che sono nati, si è parlato molto di comunità, ecco, infatti un po' di fotografie, poi abbiamo quelle anche l'epoca, questa è stata rebutata nell'84, l'omberto Volo, che è poi oggetto dell'intervento. Comunque, durante tutti gli interventi di questa sera si è parlato di comunità, si è parlato di istituzioni, rapporto delle istituzioni con i cittadini e con gli artisti, di conservazione. In realtà questi due progetti, queste due esperienze che ho vissuto riguardano un po' tutti questi aspetti dell'arte urbana, dell'intervento di arte pubblica in generale. Partendo dall'intervento di Restauro, il progetto stesso è partito proprio grazie alla volontà di Tania di Cifre Battipede, moglie di Carmine Battipede, che era l'organizzatore all'epoca, nel 1980, del Festival di Arti Internazionale Teatro Ragazzi, per il quale sono state prodotte tre opere in una stessa piazza a Battipaia, in Piazza Risorgimento. Due opere di Umberto Volo, per cui questo è oggetto dell'intervento, nato, che era in Tugnau, un'artista tedesca, che all'epoca andò apposta a Battipaia per definire queste facciate, che poi avrebbero fatto da scenografie e vari spettacoli teatrali delle cinque edizioni successive all'88. Quindi lì in particolare tutto nasce da altri cittadini, non solo da moglie di Battipede, ma anche organizzatori, amici di Battipede, che avevano realizzato il Festival in quegli anni, avevano partecipato all'organizzazione, i figli, giustamente, i figli di Battipede, che sono amico etàni, sono uno dell'89, quindi sono molto giovani, e poi arrivano appunto cercare di valorizzare questa esperienza. Ora, il senso di Pusco, all'interno dell'eccellente risultato che hanno ottenuto i ragazzi, io proprio con l'intervento pratico sull'albero, che hanno dato davvero colore a questo albero che simbolicamente è molto identitario, se dico, molto dalla popolazione locale. Forse a livello storico-artistico è legato comunque a un momento veramente particolare, soprattutto per l'arte murale del meridione. Se pensiamo tra l'80 e l'85-86, in zona del Serenitano, ma anche più a sud e poi nel Cilento, ovviamente ci sono stati molti interventi, era un momento molto attivo degli artisti, sia locali che in realtà vicino ad Attivaglia c'è Tfajano, c'è un altro, lo dovrei dire, anche dietro l'ista, per dire uno di, ci sono molti interventi murali che sono datati tra l'81 e l'85, fino all'88, quindi era una stagione in realtà forse gemella di quella che stiamo vivendo adesso, gemella di quella che stiamo vivendo adesso, se non che entrano poi le differenziazioni che ha fatto già prima David, quegli artisti avevano dei richiedimenti totalmente diversi da quelli che possono avere gli artisti. Adesso gli artisti comunque sono influenzati da un'estetica che possono verificare non soltanto di persona, ma anche attraverso internet, online, quindi un artista oggi ha un background culturale completamente differente da un artista degli anni 80. Umberto Vota in particolare aveva dei riferimenti al territorio, al posto in cui viveva, dove era cresciuto, infatti ha realizzato un albero del domani che comunque nella sua chioma conserva tutti i frutti, gli ostaggi del territorio, ci sono pomodori, ci sono le fragole, ci sono le arance, i milograni, quindi rispecchia anche esteticamente un percorso, un pilone ben preciso che però si distacca dall'articolana contemporanea, quello che non aveva conosciuto, non aveva conosciuto il writing, non aveva conosciuto i graffiti e la tecnica, lo spray ancora non veniva venduto nemmeno in Italia, forse c'erano negli anni fatti i primi, i spray che venivano usati negli Stati Uniti. Curioso, poi si è citato anche Keith Haring che nell'84 dipinse proprio una traccia delle esposizioni, mentre un percorso in quell'estate è venuto questa roba qui, nel senso che l'influenza e anche un po' forse le coincidenze, se vogliamo, hanno portato poi questa opera pittonica ad essere ritenuta identitaria, importante, anche a livello storico-artistico, dalla subintendenza di Salerno Ravettino che si è interessata a questo progetto, che è un po' a ciclo, che sta aspettando soltanto il nostro materiale per poter archiviare, e diciamo di intento è poi quello di tutelare l'opera, non solo quella, ma anche le altre due. E quindi tutto però è motore di questo progetto, è nato proprio da dei cittadini, diciamo che l'amministrazione locale, la regione che ha poi ragionato la provincia, sono stati marginali rispetto all'intervento, anche grazie comunque ad una sponsorizzazione privata, una cooperativa agricola che mi hanno fatto apposta, che ha sponsorizzato l'intervento. Quindi in realtà in questo caso i cittadini sono stati realmente i favori dell'intervento e sono stati anche non improvvisati, perché hanno contattato noi come associazione che si occupa di arte urbana, alcune persone che abbiamo conosciuto e abbiamo conosciuto grazie a David. Quindi ci sono stati dei passaggi che hanno consentito di poter lavorare a livello professionale a questo intervento. Non sono andati i cittadini lì a scolverare un po' la parete e a far ritornare i colori di questo albero così in maniera indipendente, però c'è stato tutto un processo appunto durato due anni, mi parlavamo già al macro e in realtà anche alla sapienza già si accennava, quindi da noi adesso ci siamo riusciti. In realtà l'intenzione è di continuare. Ora, mettere per stringere a confronto questa esperienza con un'esperienza che è ugualmente nata da cittadini, come quella di Ostia invece, mi fa un po' da un lato ridere, però una risata un po' negocchia, nel senso che è amata. Nel senso che ci sono in questi ultimi due droni in realtà ancora sviluppi su quella licenza. Proprio oggi mi arrivano dei messaggi che la Legione avrebbe trovato, questo lo dico più, avrebbe trovato un artista disponibile ad andare sull'opera di Luca Mario Conte. Non si sa come hanno fatto nomi, tramite alcuni consiglieri, assessori del Tt che adesso mi hanno contattato perché erano vicini dopo tutte quelle proposizioni politiche che purtroppo lo conoscete bene, che poi hanno reso strumentali quella opera, diciamo per dire. Però adesso c'è questo titolo e noi lo teniamo a sapere tramite un messaggio su WhatsApp e Luca Mario un tempo non lo sa. Quindi capiamo bene, secondo me questo è il luogo. Allora io sono qui più che altro per forse chiedere una consulenza. poco domani. Andiamo dietro. Andiamo a sbagliare questa vicenda. Però io ci chiediamo a sottolineare un po' che è andato alla riparta delle promache, tutto quello che è successo, ma nel modo più sbagliato possibile. Quindi avevo anche delle fotografie, ma poi le avete viste. Abbiamo lavorato a questo progetto grazie a un finanziamento del NUR, non finanziamento diretto a noi, di un'associazione, ma una rete di scuole di dieci istituti scolastici del territorio di Ostia, che poi hanno invitato noi, essendo sul territorio dal 2015, a realizzare la parte che invece procedeva il laboratorio distrittato con degli alunni che partecipavano alle varie scuole da portata. E poi la realizzazione di un'opera, opera che era stato, il sito murale era stato individuato dalla portata di scuole insieme proprio con il municipio che aveva contattato a portata. Quindi avevano agevolato i passaggi dei permessi che però concernevano la regione e poi sul secondo momento la notazione. Il soggetto dell'opera, in prima minuta, è stato discusso giustamente, non giustamente, sulla realizzazione di un'opera di un soggetto non accordato in precedenza. Allora, qui interviene sempre, secondo me, a livello burocratico, queste cose noi, Davide lo sa bene, come operatori, come anche artisti, grazie, le affrontiamo tutti i giorni, quindi siamo abituati, io lavoro dal 2010 anche io, però con le istituzioni, perché abbiamo iniziato con i corretti indipendenti in spazi occupati, con le istituzioni dal 2014, ufficialmente abbiamo iniziato con le opere di altre persone, con le istituzioni dal 2014. E, diciamo, questi procedimenti li abbiamo affrontati molte volte. Lì, purtroppo, a livello organizzativo, tecnico, non è stato il massimo rapportarsi con gli uffici tecnici, infatti anche il solo pubblico, l'abbiamo accettato lo stesso, l'abbiamo iniziato l'opera. E quanto sta che comunque noi abbiamo mandato una forza fatta da Luca Malionte, dove c'erano dei purti che non erano, ed era sottolineato, non sarebbero stati quelli poi dipinti sulla parete. Quelli dipinti sulla parete, invece, erano il frutto di un lavoro territoriale fatto attraverso degli imponti con le associazioni, ma anche con gli studenti che avevano partecipato al laboratorio di street art, ma anche estranei a questo processo iniziale che avevano realizzato già con i ragazzi alcune opere a stencil che raffiguravano poi i personaggi che voleva, diciamo, ci tenevano in particolare soprattutto il consigliere del nomicidio. Consigliere che ha valorato invece poi la tesi di alcuni cittadini indipendenti che hanno fatto scrivere su giornali locali, che vedono gli scherzi, il fatto che noi stessimo dipingendo un pantheon della sinistra, su quel muro, alle prime linee, alla prima forza, quindi ancora non si leggeva comunque noi abbiamo inviato tutta la lista dei nomi scelti, in vista che non c'era mai stata chiesta prima, forza definitiva mai chiesta dal municipio, ma anche perché non era il municipio dove lo chiede la regione, il fatto sta che interviene il capogruppo del Movimento 5 Stelle locale, non voglio farne una questione politica, anche perché è stata fundamentalizzata da 5 lati, penso a 360 gradi, non c'è problema su questo, e quindi ha valorato le tesi, le voci di cittadini singoli, purtroppo ha istituzionalizzato il fatto che noi stessimo dipingendo un muro dedicato alla sinistra, cosa che invece non è per, adesso non sto qui a spiegare tutti i soggetti dell'opera, ma se volete...